Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Libro dei Proverbi, capitolo 3, versetto 5. La potenza di Dio. Troppo spesso siamo portati a mettere da parte la parola di Dio e ad appoggiarsi sul nostro discernimento. Ci sentiamo pronti ad affrontare il mondo, sicuri di noi stessi. Nessuno ci ferma, siamo i migliori. Ma è proprio quello il momento in cui abbiamo più bisogno di Dio e di confidare in Lui. A volte vogliamo insegnare a Dio come fare il suo lavoro e non ci rendiamo conto che Dio non ha bisogno del nostro aiuto. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Ed Egli è sempre pronto a darci una mano e consigliarci su come condurci in modo giusto e meraviglioso. Dio conosce perfettamente tutte le nostre vie, il nostro carattere, le nostre mancanze, tutto ciò che non va nella nostra vita. I Suoi consigli sono preziosi perché ci guidano alla salvezza. confidiamo nel Signore ed Egli appianerà i nostri sentieri. Se ci allontaniamo da Lui, le nostre vie prenderanno una direzione sbagliata e subiremo delle amare conseguenze. Lontano dalla grazia e dalla salvezza in Cristo, non splenderà di certo la luce divina. Lontano dalla grazia e dalla grazia e dalla grazia.